Salve a tutti, sono Fabio Capitanucci, eccomi di nuovo nella bellissima Sala Meta sono tornato appunto per questo debutto nel Bartolo del barbiere di Siviglia e sono felicissimo di essere nuovamente fra voi Nicola, sto facendo un video Salve Ecco il nostro figaro A proposito, la barba, io non ho nessuna intenzione di farla Nemmeno io, per carità Tu te la tagli, no? No, assolutamente Neanche io non ci penso proprio, quindi andiamo tutti convinti, decisi Signori, scusate, vi aspettano in sala a trucco per farvi la barba così possiamo poi cominciare Scappiamo Ma sono scappati, appena si faranno la barba potremo cominciare con questo barbiere di Siviglia e speriamo presto, vi aspettiamo, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti